allora ci sono domande per cominciare su quello che abbiamo fatto la settimana scorsa io ho provato a risolvere l'esercizio il simple printf mi sono chiesto perché abbiamo utilizzato un for che mi sembrava, cioè non trovavo il motivo con cui, cioè il modo per utilizzarlo quindi ho fatto una sorta, adesso lo sto cercando, una sorta di ciclo while con due if dentro while e for non è che sono molto diversi tra loro abbiamo bisogno di fare un loop iterativo perché potremmo avere tanti argomenti non sappiamo quanti ne abbiamo comunque questo qua l'avamo fatto insieme era questa qui? sì praticamente dice che finché il puntatore... che mi è chiaro? No, è chiaro a tutti quello che fa questo... pronto? sì Nilo va bene comunque vai Giulio spiegalo praticamente abbiamo qui viene inserito un puntatore viene definito un puntatore è una stringa questa perché un puntatore sostanzialmente è una stringa è un array di puntatori, è l'indirizzo di un array di caratteri quindi ho utilizzato questa cosa dicendo finché il... l'ho dereferenziato che ha detto che questo... no, il significato il... carattere contenuto ah, il contenuto è diverso da... la parte finale di una stringa quindi una volta che si arriva a questa stringa finisce e si chiude il ciclo while se il contenuto è uguale a per cento allora facciamo più più P si che cazzo è P un attimo ma questo non compila nemmeno no, non ci ho provato aspetta, ma che è a P? ma che sì, io ho fatto di più P eh, appunto P non l'hai dichiarato quindi non c'è è un puntatore a carattere però va bene diciamo che no, no no, era giusto prima il problema è questo sto while non chiude mai perché format è sempre fermo al primo carattere non avanza la cosa in realtà era capito che se questo carattere fosse stato questo allora dava dava avanti di uno andava avanti di uno e poi diceva se è D allora aggiungeva nel contatore di D uno altrimenti vai solo avanti quindi sostanzialmente il più più P dovrebbe stare fuori perché o lo fai se lo fai col se e lo fai e lo fai con l'else con altrimenti vuol dire che lo fai comunque non ti pare? però scusami abbi pazienza qui ci sono qualcuno Francesco tu hai provato a farlo? no Milo 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 pronto? si hai provato a farlo? no perché non ho ancora il computer quindi non ho provato a farlo ho capito allora il punto è questo no a parte che il motivo per cui l'ho messo dentro era perché qualora avesse trovato un carattere del genere lo spingevo avanti in modo da poter trovare poi il carattere dopo ok ma sentite direi che oggi voglio voglio anche spiegarvi altre cose però vorrei vorrei farvi vabbè facciamone un'altra parte ancora ok allora noi abbiamo fatto una prima funzione che conta il numero dei degli argomenti ok pronto? allora adesso noi dobbiamo fare la seguente cosa diciamo che per il momento facciamo una cosa semplice dichiariamo una un'altra array di caratteri lo dichiariamo grande per cui siamo tranquilli che diciamo non usciremo fuori però in realtà non è così che si può fare perché se io faccio una stringa molto lunga di formato potrei uscire fuori però facciamo finta che questa cosa va bene quindi per esempio alla riga 19 dichiariamo sto array sto nuovo array di caratteri ok e lo chiamiamo output ok perché questo è il nostro questo è un array stavolta output aperta quadra e lo facciamo grande di 8192 caratteri siamo ragionevolmente sicuri che non usciremo poi questo è perché non sappiamo ancora fare una cosa che oggi vorrei piegarvi allora poi dopo ci serve no il count il count dei decimi allora abbiamo detto che questo simple printf riconosce solo i decimali va bene non fa tutto quello che fa printf printf fa un sacco di cose però per cominciare facciamogli riconoscere solo il percento d e nemmeno il percento d con varie specifiche perché anche quello è complicato va bene allora adesso la dichiarazione alla riga 24 è inutile si può levare e e poi ci serve invece un puntatore quello che tu hai usato ma che non è dichiarato che non è dichiarato che non è dichiarato quindi lo dobbiamo dichiarare vai a capo e car star p e lo puntiamo lo inizializziamo a format punto e virgola tutto chiaro? quindi stiamo allora scusa intanto per dirtene una Giulio vedi che il while alla riga 28 non chiude mai perché format non si muove tu non vai avanti col puntatore per cui quello a zero non ci arriverà mai capisci qual è il il problema pronto? sì no capito ok allora adesso usiamo usiamo la tecnica che hai usato tu no? però facciamo cioè facciamo il while ok e lo facciamo con il lo facciamo con da subito dopo la riga 25 aggiungiamo una riga questo lo butteremo via tutto il resto però il for beh sì adesso per il momento allora fai while allora adesso il punto è che il while è fino a quando asterisco p non è diverso da zero ok come sì come l'hai scritto tu scusa però asterisco p diverso da apice backslash zero apice perché noi dobbiamo fare lo scan di tutta la stringa format ok siamo d'accordo? e quindi quando allora qui che cosa può succedere? possono succedere tre cose no due cose c'è un percento troviamo un percento oppure troviamo non troviamo un percento ok se troviamo un percento dobbiamo fare la conversione se non troviamo un percento dobbiamo dobbiamo andare avanti no allora dobbiamo ricopiare il carattere perché dobbiamo comunque copiare i caratteri nella stringa output no? ah è vero ok quindi allora la riga 28 fagli un tab if asterisco p è uguale uguale per cento carattere per cento allora qua faremo una serie di cose else facciamo subito l'else che è facile vai a capo non bastava fare per ogni p uguale per cento altrimenti no cioè senza l'if come è per ogni p come lo fai per ogni p ci sta while quindi però bisogna farlo camminare perché se no così sta fermo uno questo deve andare avanti e copiare ogni carattere nella stringa di output a meno che non sia un per cento allora deve fare qualcosa che vedremo che cos'è ok allora se non è un per cento dobbiamo semplicemente copiare il carattere cioè appendere il carattere nella stringa di output ok ho un'idea su come fare sì cioè allora o utilizziamo un terzo una terza variabile di scambio cioè mettiamo che esempio la chiamiamo hold on e mettiamo che hold on è uguale a quella certa cosa da scambiare poi la inseriamo dentro quell'altro oppure no oppure si può fare semplicemente molto più facilmente solo con quello uguale a quell'altro aspetta un attimo facciamo che alla riga 24 dichiariamo due puntatori perché abbiamo uno di ingresso e uno di uscita perché il problema è che sono due puntatori che vanno separatamente uno punta format e l'altro punta output no non c'è bisogno di fare così puoi fare asterisco p uguale format asterisco o virgola asterisco o uguale output no siamo d'accordo cioè il primo punta format il secondo punta output allora se se questo è ok dobbiamo fare che no dobbiamo fare che asterisco o uguale asterisco p ok in questo caso qui ok nel caso dell'else noi dobbiamo andare avanti con o poi p dobbiamo andare sempre avanti comunque quindi p starà fuori da questo poi a capo metti no vabbè qua puoi mettere più più o però devi mettere le graffe perché altrimenti l'else non lo fa così l'else fa solo la prima riga guarda le graffe se vuoi farlo veramente cascerlo devi fare allineato con ok e qui vai avanti di 1 con o più più o punta virgola ok poi sotto ancora sotto la graffa fai più più p siamo d'accordo fino a qua ma se io lo faccio già nell'if cosa se io magari nell'if vedendo che appunto ho il per cento e voglio andare avanti nella prossima casetta del puntatore per vedere se c'è d poi un'oltre sono andato avanti e mi esce dall'if diceva un'altra volta più 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 sì ma che ne sai se c'è un di e ci sono 450 cifre quindi devi come fa a sapere che mica sarà una cifra sola o perlomeno non possiamo saperlo qua qui noi sappiamo che se non c'è un per cento io copio e basta quindi qua devi fare un più 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 ok adesso attenzione ok qui finisce la faccenda perché adesso invece dobbiamo occuparci di che cosa succede se troviamo un per cento ok io propongo no qui non c'è bisogno delle graffe perché qui ci sarà una singola riga perché siccome la faccenda è troppo complicata la mettiamo in una in una casella separata ok in una funzione separata scusatemi d'accordo e e la funzione separata la chiamiamo analizza per cento analizza underscore per cento oppure parse per cento quello che ti pare underscore per cento o a questa funzione che cosa dobbiamo passare dobbiamo passare la dobbiamo passare tre cose dobbiamo passare il il puntatore a p il puntatore a o no 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 questa è la chiamata poi faremo la dichiarazione qua l'abbiamo chiamata ancora prima di dichiararla non sappiamo nemmeno come è fatta ma sappiamo quello che deve fare però intanto ci inseriamo p ci inseriamo il puntatore a p il puntatore a o e la lista perché ci servono gli argomenti no no non format format sta già nel puntatore a p l'altro sta nel posto giusto e ci inseriamo la lista l che è la lista degli argomenti noi dobbiamo ah aspettate no ci vuole anche un'altra cosa ci vuole il il ci vuole no ci vuole ci vuole la dunque scusa countarge che cosa fa conta i percenti e basta allora si conta quanti percenti ci sono ok quindi sostanzialmente qui noi gli dobbiamo dare il count sì no dobbiamo dargli i scusami madonna santa vai giù dobbiamo dargli la lista e dobbiamo dargli i che è il contatore allora no ci vanno le graffe anche qui perché dobbiamo fare dobbiamo dare count no no count è il conto massimo e i questo non è il ciclo for sì sì ma i va bene adesso butta via tutta questa parte non la usiamo usiamo questa gli dobbiamo dare i però adesso dobbiamo incrementare i allora o gli diamo i più più in maniera che glielo passiamo e poi lo incrementiamo e così non dobbiamo mettere le graffe o se no mettiamo le graffe e il più più i lo mettiamo fuori come volete facciamo così leva tutto quello che c'è dalla riga 38 che ci confonde in realtà sto pensando che che count non ci serve ma infatti secondo me sto pensando che visto che c'erano gradi qua questo ciclo avremmo potuto fare tutto quanto dentro questo e chiamare qui un'altra funzione no 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 facciamo allora una buona regola in linea generale è di fare funzioni semplici tante piccoline e isolate più più si riesce in questo e più il programma è facile da mantenere perché si capisce facilmente capito non complicare le cose questo questo è il il trucco scusa cosa c'abbiamo sotto la riga 39 c'abbiamo tutti quegli spazi perché sono rimasti così va bene no è che c'è una graffa di troppo mi sembra cioè quella è di troppo ok ok allora adesso facciamo adesso dobbiamo fare la funzione analizza per cento no la funzione analizza per cento che cosa deve fare deve vedere se il carattere seguente è un di e se è un di andare a prendere l'argomento e convertirlo in stringa no e schiaffarlo dentro quindi vedete deve fare un bel po' di cose forse all'interno ci sarà un'altra funzione adesso vediamo allora andiamo a scrivere sì quindi vai sopra poi vediamo non sono sicuro fai void analizza per cento aperta parentesi allora qua che cosa c'è allora sì possiamo promettere che const char p star p non lo tocchiamo però non possiamo promettere che non tocchiamo o perché o lo dobbiamo caricare quindi è un car star o ok poi c'è una una va list va underscore list che è la nostra l va underscore list l puoi chiamarla sempre l sono due no no la devi ti devi dare il nome questa è la definizione e poi ci abbiamo un intero che è il conto su l ok vai a capo e apriamo le graffe vediamo come fare questa allora qua che cosa deve succedere io io so che il carattere corrente è un percento perché l'ho già guardato no quindi adesso io devo guardare il carattere successivo aspetta sì quindi vado faccio un più più p punto e virgola poi vado a capo e devo guardare che carattere è questo no l'if if è una d if p asterisco p no asterisco p è uguale no uguale uguale scusami perché è l'uguale logico allora devo fare qualcosa ok adesso il caso complicato lasciamolo sempre per dopo facciamo l'else allora adesso qual è il problema se non è una d il percento potrebbe essere un carattere il percento potrebbe essere no il percento potrebbe essere se io per esempio scrivo nella mia stringa voglio il cento per cento degli studenti ci metterò il carattere per cento ma non sto non voglio dire che la devo convertire no io devo fare il catering del carattere per cento non vi pare? sì quindi se non è circondato la bici oh aspetta che questo mi pone un problema allora no vedi che analizza per cento deve ritornare un int perché io devo ritornare devo ritornare lo stato del contatore i perché io devo contare gli argomenti ah no 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 perché io siccome ho contato il percento comunque ostia però vedi no c'è un problema perché nella lista nella lista valista ci sono solo gli argomenti che seguono no la lista valista è fatta degli argomenti variabili no quindi io devo incrementare i solo se trovo un solo se trovo una d perché devo usare quell'argomento lo devo usare altrimenti la i non la devo incrementare chiaro? quindi l'else basta sempre no no quindi analizza per cento mi deve ritornare un int io devo ritornare il valore di i per cui quando la chiamo sotto in basso quando la chiamo devo scrivere i uguale analizza per cento perché io questo i lo mando avanti solo ecco e non posso fare più più i i più più questa me la manda avanti analizza per cento la i perché non non so non so a che punto sto capite? quindi lo iniziali già uno qua no aspetta un attimo perché se entra qua dentro no 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 aspetta aspetta ci sono due perché ci sono due casi ci sono il caso in cui per cento in cui no la i deve stare a zero mi pare perché perché l'avevamo inizializzata uno perché una volta che entra qua dentro vuol dire che è il primo è già il primo caso in cui si incontra il per cento e questo deve contare no ma il mio argomento è il primo il mio argomento è il primo carattere della lista quindi è il primo elemento della lista quindi deve essere zero quello dunque aspetta un attimo se io incontro un per cento io ho il conto dei per cento il conto dei per cento non me ne importa niente perché in effetti non ci faccio nulla quello che mi interessa è se vado avanti con la i oppure no e questo me lo dice aspetta va proviamo proviamo a farla così capite qual è il problema se io ho un per cento da solo senza niente vabbè lo devo soltanto ricopiare e basta ok devo fare quello che fa il resto della faccenda devo fare quell'else non possiamo mettere qua sopra questo else quello che fa c'è tutto questo else quello che succede in quell'else e qua dentro invece segnare che appunto c'è una d no aspetta la facciamo in una maniera più semplice ancora possiamo fare questo possiamo metterlo nel primo nell'if sotto questa cosa direttamente perché possiamo fare se p se p è uguale uguale per cento e il p più uno cioè il carattere seguente ampersand ampersand no la logica è sempre fatta con due no allora no devi scrivere ampersand ampersand poi asterisco aperta parentesi p più uno uguale uguale carattere d allora a sto punto non chiami più la funzione analizza per cento ma chiami la funzione converti 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 per cento d'accordo? perché noi sappiamo già che dobbiamo convertire ok? allora a questo punto no questa ritorna un void e i ok tutto il resto più o meno no non devo per i ma i va avanti di uno non può fare altro perché è il prossimo argomento eh ma dove sta no no aspetta te lo dico io dove sta la riga 40 leva il ritorno su i metti solo converti per cento perché questa non ritorna niente e poi metti i più più perché pronto? beh vabbè ma lo puoi mettere direttamente nella chiamata alla riga 40 come avevamo fatto altrimenti qua devi mettere le graffe perché ti ricordo che l'if fa solo no così se sta su una riga sola va bene ok? siamo d'accordo? perché lì per lì ho avuto un attimo se noi non gli facciamo tornare nulla tutto quello che succede qua dentro che potrebbe succedere a i essendo passato per valore in teoria non dovrebbe tornare no ma noi li passiamo puntatori noi avanziamo con i puntatori quindi noi non lo usiamo in questo sì che lo usiamo perché dobbiamo sapere quale argomento di valiste dobbiamo prendere allora il punto è valiste è una lista degli argomenti ok? questa lista si accede attraverso una funzione che si chiama varg in cui gli si passa la lista e il numero dell'argomento che si intende prelevare quindi mi serve di sapere qual è l'argomento che voglio ok? dopodiché devo convertire quell'argomento ok? e dopodiché una volta che l'ho convertito lo devo ricopiare nella stringa di uscita ok? allora ok sappiamo che qui devo andare avanti due volte con percento p no? perché devo andare avanti di due caratteri io qui ho detto se il carattere è un percento e se è un d allora e quindi qua non è più più p alla riga 20 ma è p più uguale a 2 perché e qua se vuoi puoi mettere un commento perché questa è una cosa che va commentata perché qua devo fare lo skip di devo saltare il percento e il d ok? ci siete? perché già lo so già lo so che ci sono ok? adesso mi ritrovo che quindi mi ritrovo nel punto giusto per per sostituire al mio output il la la stringa ora qui bisognerebbe fare un'altra funzione che è la conversione tra decimale cioè tra io qua ho una ho un numero e lo devo convertire in caratteri in una sequenza di caratteri no? posso vogliere if e else? ormai non serve dunque mi sa che l'if e else non ce n'è bisogno perché questa è una cosa che dobbiamo fare comunque l'abbiamo già fatta sotto sì per cui adesso dobbiamo però fare un'altra funzione no sono indeciso se farvi fare la funzione perché c'è una funzione che fa questo una funzione standard library che poi che allora ieri ho discusso ve lo dico ho discusso con con Giulio che mi ha posto questo problema sulla sull'idea di per allenarsi per fare un po' di allenamento guardare le funzioni della della libreria standard lib e analizzarle e eventualmente rifarle un po' come stiamo facendo simple printf fare un po' di funzioni così ok lo trovo un'ottima idea e lo faremo allora adesso il problema è che per esempio dentro standard lib c'è una funzione che si chiama itoa che significa integer to asci che converte un intero in un asci allora o ce la rifacciamo qua e quindi studiamo anche itoa o per il momento accantoniamo usiamo la funzione itoa convertiamo in stringa e ciao quale volete fare ah più bella vero allora vediamo un attimo itoa aspetta eh e ito max no no itoa si chiama sono sono le prime funzioni di c sono molto questa storicamente sono estremamente stringate come nome perché non gli andava di scrivere adesso avete tutti questi editor che vi fanno il completamento ma allora vediamo itoa come funziona se vuoi puoi andare a vedere itoa funziona che secondo me gli si passa una non c'è itoa oh che stanno sì allora io ho i virgola buffer virgola 10 dov'è tra dos prendi itoa convert int datatype to string datatype ok e la chiamata è fatta così la chiamata basta abbiamo quello che ci serve ok io gli devo passare un buffer dove metter no no non guardate guardiamo solo la chiamata la facciamo uguale ok ah no la usiamo qui ci vuole un buffer perché io gli devo dire dove li metti sti caratteri in buffer sarebbe un buffer sarebbe un array di caratteri dove io metto la roba quindi per usare questa cosa perché il problema è questo se lui si dichiara un buffer dentro la sua funzione io poi non me lo ritrovo perché sta nello stack questo buffer è chiaro? hello sì allora convertiamo allora dichiariamo un buffer alla riga sotto la riga 19 perché deve essere sopra p più 2 è già una già un'operazione quindi char char buff aperta parentesi quadra chi è? aperta parentesi quadra 8192 facciamo abbondiamo anche qui questo che numero è? è 2 alla 14 2 alla 15 però è sbagliato farlo così capite? comunque fino a quando non sappiamo fare l'allocazione dinamica la facciamo così ha un valore simbolico Francesco è un multiplo di due è un numero dispari diciamo che è un no non è un numero dispari è un numero pari ma comunque no va bene ma il punto è che deve essere sufficientemente grande se ci vuoi mettere 10.000 ci metti 10.000 non capisco io ho dei botti sulla mia sulle mie casse ma non capisco da dove vengono va bene ok adesso io faccio la conversione e gli passo buff in maniera che lui mi mette il numero convertito dentro buff ok facciamo buff sì però aspetta un attimo che cosa mi ritorna lui lui mi ritorna un puntatore un car vero? vabbè comunque mi pare che mi ritorni un puntatore un car sì ok quindi mi ritornerà il puntatore a buff alla fine ok adesso quindi io qua mi metto anche un puntatore char car star str o b sì uguale allora qua chiamo subito ito a aperta parentesi allora qualche cosa gli devo passare gli devo passare p no scusami no no non lo posso fare così no no char star b lo lascio lo lascio così com'è non la chiamo subito perché devo andare avanti con p se no qua metti un punto e virgola qua subito dopo b ok poi vado avanti con p poi qui chiamo b 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 a, gli devo passare p, gli devo passare buff, perché lui me lo mette dentro buff, e poi ok, mettiamo che i numeri stanno in base 10, se no qua non... ok? Perché questo complica, la base sarebbe base 10, base 2, base 16. Tu gli devi dire in che base è. Facciamo che il nostro è semplice, usa solo la base 10 e mettici un punto e virgola. Vedete quante complicazioni ci sono? Cioè qua si può complicare l'infinito, però... ok, a questo punto noi abbiamo b che punta alla stringa del valore... ah no, no, bisogna dargli il valore qua, che sto dicendo? No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Io qua... no, non gli devo passare p, scusatemi, scusatemi, sono un po'... non gli devo passare p, ma gli devo passare il numero che si trova nella lista L, no? Che è quello che segue... ok? È l'argomento che gli devo passare. Quindi qua mi serve la funzione va underscore arg, cioè vai a prendere il prossimo argomento, aperta parentesi, gli devo passare la lista L e gli devo passare I. Siamo d'accordo? È tutto... vi è chiaro tutto quanto? Come? Non sento niente? Non proprio. Allora... Cioè il numero da passare sta dentro L? Il numero da passare sta dentro L come lista e io devo indirizzare qual è il numero dell'argomento da passare. Ricordatevi com'è la cosa. Io ho una stringa che c'è ciao core per cento di, virgola per cento di, virgola per cento di, ok? Quello sarebbe format. Quello sarebbe format. Io sto avanzando in questa lista, quando trovo un per cento, p mi deve... devo vedere se è due... è di due... va avanti di due, però... Anzi, devo dire che sto p più due non ce n'è veramente bisogno. Adesso vediamo se ce n'è bisogno oppure no. Comunque la questione è che io devo convertire il numero che sta dentro la... e metterlo nella stringa di output. Ok? Ma la lista è quindi quella serie di cose che stanno dopo la virgola? Esattamente. Sono i puntini. E come facciamo a riconoscere quale... Allora, guarda, torna sotto. Perché questo è per vedere come funziona. Va list... io dichiaro va list L. Questo è un tipo opaco. Voi non sapete come è fatto dentro, ma non ve ne frega niente. Lui dice... l'ultimo argomento... poi dopo la devi inizializzare va list L. Va list L. Va list L. è un affare che entra dentro le viscere di tutta la faccenda e guarda come è fatto lo stack. Ok? Se volete dopo andiamo pure a vedere come è implementato. Va list L. Va list L. Va... va... Tu gli devi dire, e glielo dici alla riga 35, qual è l'ultimo argomento non variabile? Che è appunto format. Da noi concide col primo anche. Chiaro? Quindi a questo punto lui sa che tutti gli argomenti che lui vede nello stack sono gli argomenti della funzione. No? E tu puoi accedere a questi argomenti attraverso un'altra funzione che è varg. in cui gli devi dare la lista degli argomenti e poi dire qual è quello che vuoi. Ah, ecco perché abbiamo seguito lì. Ok, sì, verrà capito. Ok, no, c'è una cosa ancora da dire, è che probabilmente varg ha bisogno di un cast, perché lui ritorna una roba qualsiasi, credo, e bisogna dirgli che questo è un intero. Quindi bisogna fare un cast a varg, cioè fare, dopo l'aperta parentesi di ito a, fare int, cast a int, quindi aperta parentesi, int, chiusa parentesi. Eh no, sì, ci devi aggiungere, ecco, così, senza quello, ok. Va bene? Perché questo, lui non sa che è un int, ma glielo devi dire tu. Ok? Adesso che problema abbiamo? Abbiamo che B è il puntatore al numero trasformato in stringa, convertito in stringa, quindi lo dobbiamo copiare dentro O. Va bene? Ma quindi ito a, cioè qua cosa fa? Prende i? Prende il numero, il numero come numero, e lo mette nella stringa buff, lo converte in stringa. Ti è chiaro, Francesco? Sì. Poi lo faremo, li faremo tutti sti, faremo simple ito a, simple questo e simple quell'altro, ok? Allora, adesso facciamo, copiamo la stringa che sta puntata in B dentro O. e vedrete che non c'è bisogno, no, no, dobbiamo fare while, while asterisco B è diverso da percento zero, perché ito a ci avrà sicuramente messo uno zero, per cento, no, per cento, apostrofo, backslash zero, ok? Non c'è bisogno delle graffe perché in realtà è una sola riga, molto bella, molto espressiva, che è asterisco O più più O più più asterisco O più più uguale asterisco B più più Cioè, io prendo il contenuto di B, lo copio dentro O, poi incremento sia B che O. Potrebbe non essere giusta questa, però proviamoci. Ok? Fine della funzione converti per cento. Scusa, aspetta un attimo, stiamo vedendo che la P, non ce n'è bisogno della P, non la stiamo usando. Quindi la possiamo levare dagli argomenti. C'è il P più uguale 2? Il P più uguale 2 lo possiamo mettere fuori, qua non ci stiamo facendo niente con la P, quindi la possiamo levare. Cioè, anzi, è meglio metterla fuori perché la vediamo meglio. Tutta sta stringa la... No, qua il commento lo devi levare perché non fa parte di... Vabbè, comunque, vedi qual è il problema dei commenti? Il problema è che uno se li dimentica e poi dopo non si capisce più niente. Qua possiamo levare l'argomento. Invece mettiamo dentro... Ecco, lì dobbiamo mettere la graffa e facciamo una cosa più pulita, già che ci siamo. Alla riga 38 apri una graffa. Sì, la graffa deve essere allineata con l'IF nella notazione, nello stile europeo, diciamo. E poi sotto, appunto, sotto converti per cento, invece di mettere I più più, che è bruttazzello, mettiamo più più I, punta e virgola, e andiamo avanti anche di due. Ah, aspetta un attimo. Sì, sì. Andiamo avanti di due. P più uguale a due. E lì puoi rimettere il commento che dobbiamo andare avanti di due perché abbiamo sia il per cento che la D. No, quindi dobbiamo, non possiamo, dobbiamo andare avanti di due. Cioè, non è che è opzionale. Ok. Ok, allora, stiamo vedendo una cosa. Che non abbiamo, non stiamo usando la funzione countarg. No? Però qui, ok, qua è più o meno fatta tutta la questione. Il conto non ci serve a niente. Certo, più o più, secondo me, si potrebbe mettere a posto di else. Dunque, aspetta un attimo. In effetti hai ragione. Dunque, perché qua, nel caso dell'if, incrementiamo due volte, incrementiamo due volte la P e non va bene. Sì, mettilo dentro l'else. Perché in un caso dobbiamo andare avanti di uno, in un caso dobbiamo andare avanti di due. Ok. Mi pare che, diciamo, potremmo esserci. Vediamo un attimo. Come funziona? questa per chiamarla. Cosa? E lo devi compilare? C'è un main sotto, c'è un main di test. Simple printf. Spazio. No, simple underscore printf. No, è simple underscore printf. L'errore è in ito A. Sì? Scusa un attimo. No, ma... Ok. No, no. Stavo... Ok. Fammi vedere. Fammi vedere. Può ingrandire. Non vedo niente. Ok. Allora. Implicit declaration. Ah, perché non abbiamo messo standard lib in alto? Standard lib.h? Include. C'è ancora una cosa che toglieva il word. Cosa? No, non è... Ha scritto in l'cude. Non include. Ok. E poi l'altra cosa che non gli piace è che dice valist vuole uno specificatore, varg. Quindi, no, varg, in realtà bisogna dirgli che c'è la L, poi bisogna dirgli che è un intero quello che ci aspettiamo. No, questo sta in count per cento. Scusa, dobbiamo... Puoi andare a vedere... Facciamo un attimo... Se vai a vedere la documentazione per va underscore list oppure stdarg, s-t-d-ar-g. No, no, queste sono quelle, ma devi cercare s-t-d-ar-g. Leva sto cavolo di... Documentation. Allora, va list... Ecco, vediamo varg che cosa vuol dire. Ah, poi bisogna chiamare pure vaend, mi sa. Andiamo a vedere... Vai sotto, sotto? Ah no, eccolo, varg. Varg vuole... Ah, vuole... Ah, vuole... E non vuole il conto? Non vuole count? The next argument. Quindi se lo ricorda lui, bisogna solo dirgli il tipo. Allora non c'è manco bisogno di... E alla fine bisogna metterci vaend. Va bene. Allora facciamolo. Allora, qua va scritto int. Scusa, mi fai vedere già che ci siamo lì? Mi fai vedere che cosa ritorna a valist? Giusto per fare la cosa? No, no, aspetta. Dobbiamo cambiare un bel po' di cose. Fammi vedere che... Vai sulla documentazione. Fammi vedere che cosa ritorna. Lui ritorna il tipo che io gli ho detto. Quindi non c'è bisogno del cast, ma dentro la funzione bisogna dirgli che tipo è. E chiaramente questa è una macro, sì. Quindi alla riga 23 non c'è bisogno di quello, ok? Perché lui ritornerà il tipo che io gli ho detto essere. Ok? Quindi questo dovrebbe funzionare. Adesso, alla fine del simple printf, bisogna dirgli vaend, in fondo. No, direi quando... Dunque questo... No, no, alla riga 53, quando lui ha finito tutto, bisogna dirgli vaend e gli si passa la lista L. Ok, aspetta un attimo, fermo. Allora, nel main, nel main stiamo usando printf, non stiamo usando simple printf, quindi li dobbiamo far usare simple printf. Allora, questo printf tienilo. No, 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 no. Questo ci conta gli argomenti. In realtà, countarg printf, eh? Sì, ma in B cosa va tolto int varg le i? Come, come? In B. B uguale... Dove siamo? Non sa che qui intendevi? Allora, va tolto il casta int e va messo all'interno della chiamata di varg. In realtà, se voi guardate, non c'è nemmeno bisogno di count, quindi possiamo levare count. Vai sopra? Cioè, lui non c'è bisogno di i qua, non lo usiamo i. Lui prende il prossimo in automatico. Ok? Aspetta un attimo. Quindi non c'è bisogno di contarli, i percento. Non abbiamo bisogno di count. Possiamo buttar via tutto. Ma questo è un bene, eh? Quando si butta via roba è un bene, se si fa giusto, naturalmente. No, 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 aspetta, countarg, no, no. Countarg lo usiamo sotto, ci serve. Un parente io uguale a zero. Sì, mi sa che non lo usiamo i, no? Vai sotto. Mi pare che siamo a posto. Adesso, sotto, nella printf, dobbiamo dire simple. Allora, facciamo così. Quindi, fai, aperta parentesi, però aspetta, prima di finire questa, vai alla riga 55, aggiungiamo una dichiarazione. Facciamo const char star format, la mettiamo per tutti. const, no, no, const, no, no, const char star format, uguale quel test per 100D, quello là, aperta questa, sì. Questa la mettiamo qua, così ce l'abbiamo sempre uguale, vai, incolla. Però mettici un backstash n alla fine. Ok, adesso qui sotto nella funzione countarg ci sostituisci con format. No, no, countarg, aperta parentesi, format. E poi, simple printf sarà fatto così, aperta parentesi. Format. Ah, aspetta che non abbiamo fatto, va bene, aspetta, format, virgola, adesso ci vanno tre interi. Facciamo qualcosa di 23, un numero grandissimo, virgola. Un numero grandissimo. Sì, mettici 100 milioni, sì, ok, vai, 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 ok. Forse questo è troppo grande per un intero, no, un po' più piccolo. Questo stiamo convertendo interi, no, quindi interi dipende quanto sono grossi. Ok, e poi un negativo, meno 350. Ok, va bene, punto e virgola. Questo è il nostro test, in realtà, ok? Bisognerebbe farli separati, naturalmente, dalla funzione. Però, ok, questo fa il test. E qui ci siamo, più o meno. Cos'è che manca? Niente, forse possiamo provare a compilare. No, ho fatto. No, no, c'è un refuso. Ok, c'è i che non è dichiarato, dove? Vedo altrappertutto. Ma dov'è che serve i? Ma hai salvato. Aspetta, ma da dove riprende? Forse nel... No, è la riga 40. Eh, quella è il più I. Eh, vabbè, succede, non è un problema. Ricompila, ma c'è ancora un problema, c'è un warning. Ok, fai freccia in su e ricompila. Il warning è... No, è printf quello, sì. Ok. Vai ancora. Dunque, cos'è che non gli piace? Ah, perché star p è giusto. Ok, perché siccome format è un const char star, no, char star, allora anche p deve essere un const char star. D'altra parte... Allora, questo ci devi scrivere... Ok, questo va bene, questo lo dobbiamo fare const char star. Sono due tipi diversi. Uno è un puntatore a carattere che promettiamo di non essere... di non cambiare, e l'altro invece lo smandrappiamo come ci pare. Ok. Vediamo. Ma mi dice error to few arguments to defusion converti. 3. Ah, giusto. Aspetta un attimo. È perché noi la stringa... Ok, il 3 viene dal printf, no? Ma noi dopo averlo fatto bisogna che lo stampiamo l'output. Non vi pare? Ok, allora lo stampiamo con una funzione di libreria, che è putesse, che non è napoletano sempre. Alla fine della riga... Alla fine della riga... Noi qua abbiamo fatto tutta la conversione. Alla fine del... Ecco, lì... Fai un tab su va-end, perché va-end deve essere allineato con la graffa, e poi sotto... Sotto ancora... No, alla riga 52 ci metti putesse... Aperta parentesi O. Gli passiamo O, che è l'output. No? Siamo d'accordo? Questo ce lo spara fuori. Proviamo? Ah, però putesse, mi sa che ci aggiunge un Baxaschenne, quindi non c'è bisogno del Baxaschenne. Vabbè, comunque andiamo. Proviamo. Non tanto bene, vero? Non fa quello che ci aspettiamo. Dov'è che abbiamo... Dove abbiamo sbagliato? Scusa, fammi vedere una cosa. Vai su. Scusa, no. Prima vai... Partiamo da sotto, dal main. Un commento è un errore, non so. Eh beh, perché te sarai sbagliato da qualche parte. Il main lo passiamo così e va bene. Questo va tutto bene. Andiamo sopra. Allora, lo passiamo a SimplePrintF. SimplePrintF prende il carattere, inizializza la lista e dopodiché... Dunque, nel while, noi andiamo avanti con P, o no? Scusa, vai sotto. Dobbiamo vedere se... Incrementiamo, sì. Incrementiamo sempre P. Cioè, se noi... Se noi troviamo un per cento, facciamo tutta una cosa. Se no, andiamo avanti con... Aspettate un secondo che corro in cucina e mi prendo una banana. Che hai bisogno di potassio? Dimmi, Francesco, qual è il problema? Mi dice... ha la funzione convert? Posso condividere? Non hai cambiato... Devi verificare che nella definizione hai levato tutti gli argomenti che non servivano più. Hai tolto l'inti. che era quello che aveva il problema. No, mi sa che ce ne va anche un altro che ho levato. Non mi ricordo più adesso. Ma forse va passato Star B? Ho optato per mezzo medaglione. Bravo. Ma la banana però c'è il potassio. A te ti serve potassio perché questa è consuma neuroni come se fossero bruscolini. Vai su, un attimo, per favore. Mezz'ora nuova parte. tra 40 minuti facciamo una pausa. Allora, qui andiamo avanti con P e sotto... incrementiamo P sotto alla riga 47? Sì. Quindi qua andiamo sempre avanti con P, tant'è vero che lui a un certo punto esce. Il problema è chi non stampa l'output. Ah, giusto, perché noi abbiamo fatto putesse di O. Dobbiamo fare putesse di output perché O nel frattempo si è spostato fino alla fine, che idiota. No, poi tra l'altro gli dici asterisco O, che non è quello che vuoi stampare è probabilmente digli output, devi stampare output, cioè lo devi riprendere dall'inizio il buffer, no? O nel frattempo è andato avanti. Capisci? Proviamo. ma io faccio questi errori apposta perché voi li possiate rilevare. Non tanto bene, vero? Un po' meglio, però c'è qualcosa che non va. Ok? Cioè lui al primo per cento se n'è andato sostanzialmente, ce lo siamo perso. Non ha continuato a copiare dentro O. Torna un po', torna un po' al programma. Vedete, questo per esempio è un programma che è giusto dal punto di vista, è corretto dal punto di vista sintattico da Nadeo Giulio. Questo medaglione è impegnativo. è corretto dal punto di vista sintattico, però è sbagliato dal punto di vista logico. Allora, il problema sta nella funzione converti per cento perché noi non riusciamo a vedere niente da qua. No? Allora, converti per cento va bene. forse questo O++ eccetera eccetera è una porcheria. Quindi facciamo un while con le graffe. Mettici le graffe lì? Vabbè, sì, l'editor scrive le cose che tu non vuoi. dunque, il problema qual è? È che io O gli passo un puntatore. un puntatore. Un puntatore che cos'è? È un valore numerico. Allora, io prendo questo valore numerico e continuo a incrementarlo. Però lo incremento nel mio stack. Quindi, questo per esempio è un caso in cui gli devo passare un doppio puntatore. cioè, l'indirizzo del puntatore. Capito? Allò? Giulio, ti sento che parli parli sono sicuro che il livello è giusto ma tu parli con una mi sentite? una voce così suoladente che eh? SM sentite meglio così? Un po' meglio, sì. Allora, no, il problema qual è? è che avete capito? Io li passo O è un numero, è il mio puntatore. Io lo incremento ma lo incremento dentro una funzione in cui è stato passato per valore per cui io non me lo ritrovo incrementato. Infatti funziona tutto bene fino a quando incontro il primo per cento. Quindi converti per cento deve avere un doppio puntatore. Cioè char star star O perché io gli devo passare l'indirizzo del mio puntatore e lui se lo deve gestire. Allora? E dove va inizializzato questo punto? No, non è inizializzato. Io glielo passo in argomento a converti per cento. Non è car star O ma car star star O. Io gli devo passare un puntatore a un puntatore quindi quando passo converti per cento gli devo passare ampersand O. Ok? Gli devo passare l'indirizzo di quel puntatore perché così lui me lo incrementa e ok qua se volete possiamo riconvertirlo in un puntatore per fare le cose semplici. No? Potete fare alla riga 22 char star B virgola e star OP no non è una buona idea scusami non è una buona idea lasciamo stare ok allora adesso qua dobbiamo copiare quello che sta in B in quello che sta in O no? E dobbiamo incrementare il puntatore ok? Allora qua che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare star star O uguale star B no? Cioè il contenuto di B lo dobbiamo mettere nel contenuto puntato da O ok? Poi dobbiamo incrementare star O star più più O no più più O ma vanno messe le parentesi in questo caso no no perché più più lega con O e poi più più B d'accordo? Qui dobbiamo passare il doppio puntatore bla 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 forse ce la facciamo dai salva ok manco legani dov'è che se siamo sbagliati? secondo me si ferma addirittura qua no no perché test lo stampa si ferma al primo per cento ok allora siccome non capiamo quello che sta succedendo ok dunque aspetta un attimo io a converti per cento aspetta 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 scusa torna su ma io se non passo P a converti per cento lui che ne sa che deve convertire fammi capire come è stato converti per cento scusa io gli passo lo e no io gli devo passare anche P per forza aspetta no io non gli passo P perché dico non me ne importa niente di dove sta P io io devo caricare o noi carichiamo varg all'interno di B ma ma perché perché la mia il mio il mio intero sta dentro la lista non sta dentro la stringa quindi non ho bisogno della stringa in effetti se questo intero ecco il problema è che non viene convertito allora proviamo a fare una cosa mettiamo alla riga 22 adesso adesso facciamo un debug vi faccio vedere come si fa un debug come si fa il modo più semplice di fare un debug è fargli stampare quello che sta facendo ok allora intanto facciamoli tirar fuori l'intero vediamo se c'è se lo trova ok quindi alla riga 22 aggiungi un'altra dichiarazione l'intero glielo facciamo mettere no 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 quello lascialo là sotto la riga 22 dichiariamo un intero int number numero uguale va arg va underscore arg questo se lo mettiamo direttamente dentro aperta parentesi l virgola int e punto e virgola ok mo stampiamocelo per vedere se c'è allora per stamparlo fa un printf di percento d col backslash n e ci metti number senti questo siccome lo leveremo questo printf mettilo si mettilo all'inizio riga in maniera che lo vediamo e lo leviamo perché questo è solo debug ok a questo punto lito A fermo fermo Fenn dove vai oh lito A non lo facciamo se lo facessimo così vedremmo due argomenti quindi lì è number dobbiamo dargli number dobbiamo dargli buff lui ci ritorna B poi analizziamo B cioè andiamo a cercare quello convertiamo questo in quello andiamo avanti e dovremmo esserci sì ok compiliamo ok 23 51 e 49 eh how strange ma ito A questi sono i numeri che mi ha ritornato ito A ma mica tanto bello no ah no no scusami no no che sto dicendo sono i numeri che stanno dentro number e perché questo fa questa porcheria qua stiamo smanazzando un po' troppo eh vabbè comunque sia vabbè vabbè sono sbagliati ma intanto questi li dovrebbe tornare no li dovremmo avere sono i numeri tornati dalla lista allora scusami vabbè adesso per il momento non preoccupiamoci di quello perché questa deve essere una cosa di valista che non capiamo però preoccupiamoci di vedere alla riga 25 questi numeri sono convertiti bene quindi mettiamoci un altro printf sotto la riga 25 e vediamo come li converte per 100S è giusto a questo punto e li passi B ok sì e i Toa li converte bene va bene quindi quello già possiamo levarlo però perché li stampa 1 e 1 doppi eh no perché li stampa perché non fa 23 59 49 23 59 49 no perché io la chiamo tre volte converti per cento per ogni per cento lo chiamo quindi mi fa due printf per ogni numero beh puoi levare il 26 sappiamo che i Toa funziona bene quella che non funziona bene è Vararg adesso il problema è perché O non viene riempito correttamente allora per capire questo mettiamo un printf mettiamo un printf sotto la riga 28 printf per cento s e guardiamo e guardiamo che cosa c'è dentro asterisco o perché asterisco o è no è il puntatore perché questo è un doppio puntatore quindi asterisco o è un puntatore e in effetti a me mi serve un puntatore per percento s scusa va bene sì facciamo così vediamo un attimo allora 23 effettivamente asterisco o a 2 e 3 aspetta un attimo sì perché serve un puntatore per il printf a 2 e 3 5 1 e 4 e 9 ora perché dunque io devo andare avanti col puntatore allora in quel printf scusami mettiamoci mettiamoci un attimo la stampiamoci io devo andare avanti col puntatore stampiamoci anche il puntatore per cento p e quindi qua stampiamo o sì vediamo che cosa fa o dunque il puntatore va avanti però sta sempre nello stesso punto qua vedi sta sempre nello stesso punto quindi sostanzialmente io non vado avanti col puntatore dunque io ho quello aumento dunque perché io questo poi lo ritiro fuori scusa fammi vedere un attimo cosa succede sotto dunque io chiamo converti per cento gli passo l'indirizzo di o e quindi è un puntatore di puntatore e io devo incrementare quell'indirizzo siccome lì nella funzione converti per cento il puntatore è il puntatore è asterisco o no però vedi che sì è vero perché quello è un prova a fare adesso a intuito mi verrebbe da dire che la riga 30 non è non è asterisco più più o ma è più più o e basta però è veramente molto intuito non capisco perché eh sì in realtà perché quello lì avrebbe preso il contenuto invece così spostiamo l'indirizzo del puntatore eh ma noi dobbiamo spostare l'indirizzo del puntatore che essendo un doppio puntatore fa un po' no no non non lo fa scusami aspetta un attimo è più più è più più asterisco o perché io devo incrementare ok adesso c'è un altro problema ah ma no aspetta un attimo è che io io ci metto ah ci metto il contenuto ok ci metto perché allora il buff 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 è un array che sta nello stack va bene o è un altro array è output e sta da un'altra parte sta sempre nello stack ma da un'altra parte io metto il contenuto di b dentro o no dopo di che incremento o scusa provo a mettere più più aperta parentesi asterisco o perché qua come si legano tutte sti cosi non me lo ricordo mai cioè io devo incrementare l'indirizzo salva proviamo ancora è già meglio però non so perché continua a dare 23 23 23 sì perché non va avanti non va avanti sembrerebbe che lui prende perché l'indirizzo di buff è sempre uguale proviamo a stampare business no ma il problema è che non andiamo avanti con la lista no? cioè anche number mi dà sempre 23 in teoria non dovrebbe essere no scusami mi fai rivedere come funziona il programma perché mi pare che la lista non va davanti è valista che mi ritorna sempre 23 cioè in realtà la parte sotto funziona bene è solo che io ricevo sempre 23 non teoria dovrebbe andare avanti da solo no? certo quello ogni volta che io la chiamo va avanti ma scusa vediamo un attimo di nuovo la documentazione di vararg e valista allora va start va start e li passo la lista inizializza p to be used with vararg and last arg is the last known fixed argument being passed va bene questo fa bene adesso guardiamo vararg this macro retrieves the next argument in the parameter list of the function with type type oh questo è quello che facciamo this macro allow a function with variable argument which use the vastat macro to return if the end is not called before returning from the function the result is undefined ossia va a sbatte andiamo leggi sotto ancora sai qual è il problema il problema è che siccome stiamo smanazzando lo stack questa è un po' una porcheria tutto quello che stiamo facendo io non so se la lista la posso passare nello stack non mi è non mi è totalmente ma io stavo pensando una cosa invece non mi è totalmente chiaro che io la lista la possa passare nello stack in teoria qui non dovrebbe esserci per cento b invece di b per cento no per cento no scusa facciamo un'altra cosa abbi pazienza no perché i toa mi ritorna un puntatore a carattere scusa facciamo una cosa invece di passargli la lista perché ho paura che qua passiamogli un intero cioè questa non si chiama converti per cento ma scrivi per cento scrivi intero cambiamo il nome della funzione perché la conversione mi sa che la dobbiamo fare dentro cioè quando chiami valist poi devi chiamare le macro le devi chiamare perché c'è un problema cioè noi stiamo smanazzando la chiamata delle funzioni capito no scusa chiamalo int number quell'argomento no Giulio int number poi leviamo la dichiarazione questa la leviamo no no leviamo pure il varg perché non lo possiamo fare così la funzione vabbè se la vuoi chiamare converti per cento lascia lascia tutto lascia tutto il resto in realtà sarebbe scrivi intero ma va bene lasciamola così per il momento hello no no allora alla riga 19 mi devi scrivere la funzione si chiama scrivi intero no non si chiama perché non fa più quello scrive solo l'intero e basta ok adesso sotto quando la chiamiamo tutta la chiamata va a varg la dobbiamo fare sotto perché non si può fare come la stiamo facendo allora aspetta nanti dentro quella graffa mettiamo alla riga 45 vabbè quella si chiama scrivi intero e subito sopra facciamo la conversione quindi fai int number qui possiamo di nuovo fare delle dichiarazioni perché abbiamo appena aperto una graffa uguale cos'è varg cioè il varg va chiamato contestualmente a dove ho chiamato vastart se no questa roba si incasina varg aperta parentesi l virgola int punto e virgola e qua ci devo passare number e non l proviamo lasciamo stare tutto il resto ok music allora il problema era questo questo bisogna ricordarselo perché non è non è scontato già ricordarsi che va arg queste non sono delle funzioni sono delle macro poi le studieremo però sono delle sostituzioni letterali quindi non si possono chiamare vanno chiamate contestualmente tutte nella stessa funzione perché siccome manipolano lo stack e siccome le funzioni quando io chiamo un'altra funzione uso lo stack non posso fare contemporaneamente tutte e due le cose non so se mi spiego comunque scusa leva il printf alla riga 23 il printf alla riga 28 la cosa è fatta e debuggata adesso che cos'è ok riproviamola un attimo giusto per vedere ora c'è solo un problema ok c'è solo un problema che questo stampa due ritorni a capo perché putesse stampa il ritorno a capo proviamo con un'altra funzione che si chiama f putesse che non dovrebbe stampare il ritorno a capo oppure no scusate no proviamo a usare la funzione write non so se funziona così non mi ricordo più bisogna andare a vedere la documentazione no implicit f write sì però f write vuole un altro argomento mi sa prova questo non non è giusto sì f write vuole sì vuole un sacco di altra roba perché vuole il puntatore e vuole le dimensioni no no non usiamo f write usiamo f putesse e con aspetta ok manca una cosa gli dobbiamo dire dove stamparlo f putesse virgola tutto maiuscolo std out lo standard output cioè lo stampiamo sul terminale che questo può stampare dentro un file no 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 e che cavolo dunque ok allora usiamo qui usiamo il printf standard dai printf standard senza il ok fai printf vabbè è un po' una porcheria però però questo mi serve solo per eliminare e fai mettici aperte virgolette per cento est chiuse virgolette virgola milo ci sei lotti insieme a noi ogni tanto mi devo mutare perché c'è un po' di casino a casa però comunque ci sono ma c'hai domande tutto bene ogni tanto ma scusa no ma leva lo standard out Giulio ok questo non c'ha il box a scende quindi non dovrebbe avere il box a scende vediamo un po' sì c'ha sempre un ritorno a capo di troppo ma va bene comunque fa cose strane però forse no io no no il ritorno a capo è quello della riga 62 cosa c'è Francesco? no fa robette strane che vuol dire robette strane parliamo con un linguaggio comprensibile ai programmatori mi viene ttt test 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 23 test 23 test direi che c'è qualche problema sì lo vuoi debaggare te o vuoi farcelo vedere? qua ne vieni mezzo faccio vedere senti me lo metti nella me lo metti nella chat per favore però è carino quello che viene fuori sì sì è poetico posso immaginarmi aspetta un attimo dove siamo ok eh vogliamo vedere? sì non penso che ci sia qualcosa di strano qua a questo punto no lì non ci può essere nulla di strano dunque sopra vai in alto c'è una stampa sopra da qualche parte come se non incrementasse bene ma come hai fatto a mettere i puntini che ti indicano dove finiscono le grazie sono impostazioni mi ho fatto un casino sì decisamente distrutto tutto impostazioni scusa io però non riesco a capire niente se fai così no sì no qua mi sembra tutto bene forse è solo c'è qua no con l'inno non la usiamo quella non sa perché mi ha chiuso tutto no non fate cose cioè non dite cose così fataliste allora qua mi sembra tutto bene vai giù vai sotto 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 in basso main è il main dobbiamo sempre ripartire dal main allora il main fa scusa scusa ok posto eccolo ok questo va così ok adesso il simple printf andiamo andiamo su simple printf con format valista ok l'output pi va avanti di 2 e o deve essere incrementato sopra dentro la funzione ok ok è proprio identico proprio identico siamo sicuri ho trovato dove è ancora più su no io non ho trovato ancora vai ancora più su siamo sicuri ho trovato l'errore e ho trovato l'unico e beh voglio dire ragazzi il problema è che purtroppo con la programmazione c'è questa cosa il computer se sbaglia meno di voi e questa è una sua prerogatia no scusa counterg nemmeno la usiamo quindi non può essere cioè un errore dentro counterg non lo vediamo quindi l'errore sta da un'altra parte allora chart star number li passa il number lo lo bla 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 poi viaggio così e lo metto cos'è questo non è proprio perché ci sta la counterg mi confonde le idee ma no abbi pazienza non fate i fatalisti ragionate con la testa counterg stampa il primo printf e lo stampa bene me lo fai rivedere un attimo fammi fai ricompila hai salvato hai salvato ricompilato quello che è un target ok salva e ricompila ancora perché prima mi faceva così poi ebbè ok ok che cosa sta facendo lui lui fa si ah ma aspetta tu stai ricominciando sempre perché questo ricomincia sempre dall'inizio della stringa aspetta un attimo vediamo un attimo com'è la questione dunque c'è qualcosa che deve incrementare o non incrementare puoi farlo un po' più grande allora ok io vado avanti ok questo va avanti è ok questo va così è ok vai sotto star o punta a output scusa vai sotto vai sotto vai sotto no non lo usiamo no lo usiamo lo usiamo dunque l'hai messo nella chat Giulio no me lo metti per favore nella chat perché voglio provare no voglio capire se è un problema perché va bene siccome questa cosa di usare varg è una roba un po' voglio capire se è un problema di compilatori perché effettivamente non vedo l'errore ma abbiamo pure lo stesso compilatore eh lo so però avete due macchine diverse come si rito no che hai fatto no chi no hai fatto copia e incolla mi sfonda tutto no fai carica file ci sono i tre pallini sulla chat gli fai send file che sei matto hai visto che grazie le porcherie che viene fuori Giulio allora per cento questo va così simple printf va cos'ha torna su su simple printf ok thank you devo andare qua devo andare qua me l'ho aperto in quest'altro che cos'è questo? no me l'ho aperto in quest'altro non conservatori Roma Roma student corsi monografici 29 29 siamo oggi no ok aspetta un attimo lo compilo anch'io dunque a me mi dà una dichiarazione implicita su ito a vediamo di che cosa ha bisogno perché come sarebbe a dire che non c'è ma ito a non esiste non me la trovo aspetta un attimo facciamolo con ccc no stessa cosa dove sta sta funzionando a di giudì di giudì me la dà mezzo esatto allora standard lib partiti se non c'è non standard function it is non standard function e quindi is below Però ItoA non me lo dà come una funzione standard. Allora ItoA dove sta? Allora ItoA include statalibro. Cioè se la funzione non compare io la devo andare a cercare. ItoA dove sta? Qua non c'è. Allora grep ItoA. Guarda vi faccio vedere cosa mi succede a me. A me non mi compila la cosa fatta da Giulio. Non mi compila. Ho scoperto che c'era un mini cannolo. Ok, non fai altro che mangiare. Allora il problema è questo. Giulio compila però c'è un 3 stupro. Il 3 è giusto perché è il print del Countarg. Ma a me non compila. Guardate a me cosa succede. Non compila perché non riconosce ItoA. Ok? E ItoA... Come? Scusate se è rientrato in audio. Vabbè, vabbè, non importa. Sì, andiamo avanti. Se io dico ma mi fai vedere che cos'è ItoA, lui non lo trova. Quindi io ho un problema che non esiste la funzione ItoA. Eppure lui mi dice che ItoA c'è dentro la standard Vib. Allora, scusate, devo rispondere al telefono un attimo. Aspetta, dove sto? Un attimo solo. Allora, il punto è che lui non lo trova. Allora, devo andare a vedere dove sta sta Benedetta ItoA. Allora, faccio un grep. Grep è un comando che fa una ricerca e cerco grep dentro usrinclude. Dove stanno tutti i punto H. E lui qui non trova niente. Allora vado nelle sottodirectory, perché può darsi che, per esempio, standard Vib includa dei file che stanno dentro un'altra directory. e non le trova manco qua. Andiamo sotto di due directory. A un certo punto la troverò. Ah, ho trovato che c'avevo di strano. Che c'avevi di strano? Eh, ho messo vaend dentro la graffa. Ah, capirai. Stavi facendo vaend a tutti i giri. Sì. L'hai incasinato poco. Allora, io non sto trovando ItoA. Non c'è da nessuna parte nella mia macchina. Allora devo fare... Eh, ma Atol è ASCII too long, che è tutta un'altra cosa. Noi dobbiamo fare intero. E quindi o me la scrivo, o se no non ce l'ho. Però posso cercarla all'interno di tutti i pacchetti che ho, per vedere se sta da qualche parte. Ecco, questa è una funzione in Rust, che non è C, quindi non mi serve. E quindi io ho questo problema, che non so come mai, ma mentre ItoA è documentata dappertutto, non standard extension of the C programming language, it cannot be portably used, as it is not defined in any of the C language standards. However, compilers often provide il 3D add a standard lib, while in non-conforming mode, because it is a logical counterpart of the standard library function AtoE, cioè AtoE è quella che converte ASCII in decimale. Quindi questo è un bel casino, depending on its implementation. eccetera, eccetera. Poi qua ci stanno varie implementazioni. The function reverse, eccetera, eccetera. Vabbè, questa bisogna implementarsela a mano. Non possiamo scaricare il... No, tu ce l'hai implementata. Quello che io non capisco è che usiamo tutte e due GCC, ma io proprio non ce l'ho. Non c'è. Il mio GCC non me la dà. È proprio il link. Basta forse di installarlo e ristallarlo, magari se in mezzo... Ma non fanno... Scusa, abbiate pazienza. Non è così che si approcciano i computer. GCC, come lui ti sta dicendo una cosa, io non la conosco e io non me la sto trovando tra le librerie che ho. Io non faccio queste cose che fate voi di installare, riformattare tutto il disco ogni volta. Io saranno... 50 anni che non formato il mio disco. È così. Se non c'è, vuol dire che c'è un problema che adesso non so che cos'è, ma questo problema c'è. Quindi lo devo risolvere. Non fate cose apotropaiche, gesti qualsiasi, perché il computer vi dice qual è il problema. Il mio problema che ho qua e che voi non avete è quello che il mio GCC, per un motivo che non so, forse c'è un flag di GCC che devo usare, però siccome non la vedo la funzione è da nessuna parte dichiarata. Ecco, non c'è manco la pagina di manuale di GCC. Un package... No, pensavo questo, però... La installazione non ha inserito. Ma non è così. Vediamo com'è il standard lib. Standard lib, standard lib di qua, standard lib di là. Vabbè, ok. Diciamo che io adesso questa la concluderei qua. Ne farò un'implementazione, quindi mi funzionerà. Cioè uno, quando non la trova la funzione, se la implementa, non è che c'è... Il bello del C è proprio questo. Ok? Comunque... Ok. Facciamo così. Ok, io chiuderei qui la lezione. Facciamo un attimo una pausa e riprendiamola... riprendiamola... alle 11. 10 libri o un Ubuntu.